Come già accaduto più volte ormai, il presidente dell'Associazione Nuova Pescara, Marco Camplone, torna a criticare il ritardo nell'attuazione del progetto di fusione dei tre comuni, Montesilvano, Spoltore e Pescara, e chiede a Marsilio di nominare un commissario ad acta. Logiche campanilistiche e paura di perdere privilegi segnano tutto il cammino della Nuova Pescara, nonostante la vittoria schiacciante nel referendum che consultò la cittadinanza nel 2014. Ormai è una storia che sta diventando annosa e quasi imbarazzante per la politica, a nostro modo di vedere, perché c'è in atto una melina di fatto, commissioni che si sono istituite e che poi vanno regolarmente deserte e questo tipo di impostazione credo che non sia corretta. La politica deve prendersi le proprie responsabilità e visto che fino ad oggi non è stata in grado, noi oggi appunto chiediamo a Marsilio e alla giunta regionale di nominare un commissario ad acta, che non è un commissario prefettizio che arriverà eventualmente e speriamo anche di no nel 2024 quando finiranno i termini, ma è un commissario ad acta che prende in mano la situazione attuale, che faccia in modo che finalmente le commissioni si possano riunire e possano produrre quei documenti propedeutici alla nascita di questa nuova Pescara. C'è una legge che va assolutamente applicata, c'è già un fortissimo ritardo, ma il ritardo non è solo quello del cronopogramma espresso dalla legge, il ritardo è che nessuno è andato a Roma a chiedere soldi per la nuova Pescara. La nuova Pescara è un unicum a livello europeo, riteniamo che ci sia ancora tempo per rimediare, ma vorremmo che non si dicesse più, che non si possa fare la fusione perché ci sono trebi a Roma. Avrebbe aiutato a immaginare un nome, in questo caso quarto, non terzo, che non fosse il nome di uno dei tre comuni? Secondo me è una questione di lana caprina, non credo assolutamente, anzi forse sarebbe stato un motivo di divisione ulteriore, ma noi non ci opponiamo, lo potete chiamare come vi pare? Possiamo chiamarla adriatica, chiamiamola adriatica, chiamiamola come vogliamo, il problema è il merito, non le questioni di corollario. Il nome non può essere un freno, voglio dire, io dico sempre che la presenza del tarlo non può impedirci di piantare l'albero, noi qui stiamo piantando alberi, alla prossima potrebbe diminuir questoälle, Grazie a tutti.